Il migliore spot per l'istituto alberghiero Pittoni di Pagani è rappresentato certamente dalla bravura dei ragazzi protagonisti durante l'open day, la giornata in cui questa scuola si è aperta al pubblico, agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie, a quei genitori che vedono nel proprio giovane studente un'attitudine per questo tipo di settore e nell'istituto uno sbocco importante sia sotto l'aspetto curriculare che forse in particolar modo in quello della pratica che potrà poi immetterlo subito nel mondo del lavoro. L'open day ha riscosso grande successo a Pagani per la soddisfazione della dirigente scolastica Rosanna Rosa che già sta lavorando al prossimo appuntamento previsto a febbraio. Anche quest'anno come tutti gli anni siamo lieti di accogliere i genitori e gli alunni per l'open day, la manifestazione propedeutica alle iscrizioni al primo anno a questo istituto. Sono veramente lieta di accogliere le famiglie degli alunni anche perché questo è un modo per far vedere la qualità dell'attività dell'istituto stesso. I nostri allievi sono impegnati a dare proprio una dimostrazione delle attività dell'istituto attraverso esercitazioni di cucina, di sala e di ricevimento. Invito comunque tutti coloro i quali non fossero potuti venire a visitare il nostro istituto anche in altre giornate lavorative dove potranno davvero rendersi conto dell'attività che si fa nel nostro istituto. Anche perché è importante che ogni genitore, ogni famiglia si renda conto della formazione e della qualità che si respira nelle nostre aule e nei nostri laboratori affinché insieme a noi la famiglia possa essere artefice della formazione del proprio figliolo dal punto di vista professionale e dal punto di vista di formazione dell'uomo e del cittadino. Grazie. Grazie. Grazie.